Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori levapelucchi elettrici. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Severin CS7976. Questo levapelucchi Severin è il modo più semplice per rimuovere pelucchi e sporco da indumenti e tessuti. Questo levapelucchi elettrico è facile da usare perché funziona con due batterie a mezza torcia, incluse nella confezione, e ha un interruttore on-off. Con una griglia metallica che scorre senza intoppi e non si impiglia e un contenitore rimovibile per una facile pulizia, questo levapelucchi può essere utilizzato su diversi tipi di tessuti. Questo levapelucchi Severin è il modo più semplice per rimuovere pelucchi e sporco da indumenti e tessuti. Questo levapelucchi elettrico è facile da usare perché funziona con due batterie a mezza torcia, incluse nella confezione, e ha un interruttore on-off. Dotato di una griglia metallica che scorre agevolmente e non si impiglia e di un contenitore rimovibile per una. Facile pulizia, questo levapelucchi può essere utilizzato su una varietà di tessuti. Numero 4. Severin CS 7976. I levapelucchi sono articoli domestici essenziali per rimuovere i pelucchi dai vestiti. Ma il modo tradizionale di rimuovere i pelucchi è con uno spillo o un ago, che può ferire le dita e lasciare buchi nei vestiti. Il levapelucchi elettrico offre una soluzione innovativa a questo problema, utilizzando lame rotanti per eliminare delicatamente i pelucchi più ostinati senza danneggiare i tessuti. È sicuro, efficace e può essere utilizzato su tutti i tipi di tessuto, tra cui lana cashmere, flanella, cotone e cotone miscele. Il levapelucchi elettrico è un dispositivo portatile facile da usare. È sufficiente tenere il levapelucchi sulla zona interessata e premere il pulsante per avviare la rotazione delle lame. Le lame rimuovono rapidamente i pelucchi, lasciando i vestiti puliti e nuovi. Il levapelucchi può essere utilizzato anche su tappezzeria, tende e biancheria da letto per mantenerli freschi e privi di pelucchi. Terzo posto ceolia levapelucchi Il raschia pelucchi Philips è un modo sicuro ed efficiente per rimuovere pelucchi, peli e nodi da tutti i tipi di tessuti, compresi maglioni, maglie, coperte, lenzuola, tappezzerie e altro ancora. Può farvi tornare come nuovi. Design sicuro le lame smettono di funzionare quando il coperchio è aperto o la rete del coltello non è stretta, il design unico offre un'esperienza sicura, protegge la mano da lesioni e protegge i vestiti da lesioni. Batteria ad alta capacità il dispositivo è alimentato da una batteria agli ioni di litio a giornata che può essere utilizzato ininterrottamente per 40 minuti con una sola carica. Leggero e portatile le dimensioni ridotte e il design senza fili lo rendono facile da trasportare e da riporre, in modo da poterlo portare con sé ovunque. Numero 2, Philips GC026-30 L'aspirapolvere Philips GC026-30 rosa Flider rimuove rapidamente e facilmente i pelucchi da tutti i tipi di tessuto. La comoda lama rotante raggiunge gli 8800 giri al minuto per una rimozione efficace, mentre i fori di tre dimensioni nella rete consentono di rimuovere i pelucchi da capi di qualsiasi dimensione. Il contenitore è facile da rimuovere e da svuotare, in modo da non sporcare. Inoltre, è dotato di due batterie A incluse nella confezione. L'aspirapolvere Philips GC026-30 rosa è la soluzione perfetta per rimuovere rapidamente e facilmente i pelucchi da tutti i tipi di tessuto. La comoda lama rotante raggiunge gli 8800 giri al minuto per una rimozione efficace, mentre i fori di tre dimensioni nella rete consentono di rimuovere i pelucchi da capi di qualsiasi dimensione. Il contenitore è facile da rimuovere e da svuotare per evitare di sporcarsi. Infine, il numero 1 della nostra lista, Beautural Leva Pelucchi. Questo depilatore elettrico è perfetto per rimuovere rapidamente e facilmente pelucchi e nodi dai tessuti. Grazie a due tipi di alimentazione, alla potenza del motore di 9000 giri al minuto e alla testina ultra larga con sei lame affilate, può essere utilizzato su qualsiasi tessuto o indumento. La pellicola a nido d'ape, il distanziatore regolabile in altezza e le due velocità regolabili aiuta a neppilazione facile e delicata per tutti i tipi di pelle. Infine, le dimensioni ridotte e il design senza fili lo rendono facile da usare e da riporre. Questo depilatore elettrico è perfetto per rimuovere rapidamente e facilmente pelucchi e nodi dai tessuti. La pellicola a nido d'ape protegge la pelle mentre le sei lame affilate rimuovono rapidamente ed efficacemente i pelle. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.